Vi ricordo che siete ancora con me, Angelica Marcantoni, con questa terra di marca e con le frequenze di Radio Domani. Dicevo poco fa che parliamo ora di talenti del nostro territorio, l'abbiamo già intervistata nel nostro programma, nel mio programma, in questa terra di marca, e il suo nome è Graziana Tassi. Lei sta uscendo con altri brani, quindi sta producendo ancora altri brani, e uno di questi è la canzone che stiamo per ascoltare, un'alba d'inverno, e che potete trovare anche su Youtube, quindi per chiunque fosse interessato è facilmente rintracciabile. Graziana Tassi, un'alba d'inverno. Che non sento, non riconosco l'odore di una rosa, le tue promesse bugiarde mi cambia, mi sballa, mette in singhiozzo ogni mio respiro, ti penso ancora come il mio amore, ma gli occhi tuoi si girano dai miei. Perché, 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 guardo una stella cadere nel mare, vorrei arrivarsi davvero un raggio di sole, la tua mano sul fianco, come nuvola portata dal vento, dai scendi, vieni negli occhi ancora. L'amore si è perso, dentro un pensiero banale, ma io no, non ho potere, indifferenza. Forse chissà, forse chissà, c'è un tempo per ritrovarsi, e dire ancora ti amo. Guardo una stella cadere nel mare, vorrei arrivasse davvero un raggio di sole, la tua mano sul fianco, come nuvola portata dal vento, dai scendi, vieni negli occhi ancora. La tristezza lascia spazio a un sorriso, ancora ci credo, un ritorno sincero. Spogliarmi d'amore, alba d'inverno. Ci ho parlato di un'alba d'inverno, Graziana Tassi, è una nostra cittadina, una concittadina, perché lei è di Civita Nova Marche, quindi è un talento del nostro territorio che sta producendo canzoni su canzoni e ogni tanto torna qui per proporcene qualcuna. È questa che abbiamo ascoltato proprio sua. Andiamo avanti con i messaggi.